Sì, come si è sviluppato questo? Come si, camarade? Spreste nemmeno? Un po' di tutto. Io sono da Roma. Oh, Roma! Papa, il sole! Andrì, portate questi. Voi in. Oh, pesce per lavoro. Ecco. Oh, italiano, sempre musica, eh? Certo. Italiano, non buono fare quella. Italiano, molto buonissimo per il concertino. Mandola. Sì, e del nonno in Cariola. Bravo. Ah, tu per me, musica. Io, musica. Tu, sargento, come me. Io, camarade. Io, camarade. Io, musica. Oh, internazionale, ja? Ja, ja. Gut, gute Idee. Moment. Singen, die internazionale. Schnell, verstanden? Singen, die internazionale. Insigne. Singen, dier pravi. Ne le NSI. Sommes ma ne! Ciao, su deserve. Ho mio. Ho bisogno. Ho bisogno. Ehi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.